Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati a un nuovo episodio di Airsoft Iron 4, il tutorial. Nello scorso episodio avevamo visto i pulsanti che cosa facevano, avevamo visto le varie schermate che cosa ci andavano a offrire, avevamo visto anche i generali cosa andavano a fare, io butto un attimo tutta questa roba che avevo creato. Ok, adesso andiamo ad impostare e quindi a risolvere questi pulsantini che ci ha poppato il gioco. Allora, il primo ragazzi che ci poppa è la ricerca. Ora, prima di parlare di questo ragazzi vorrei farvi riflettere su una cosa. Essendo una simulazione storica, la guerra inizierà nel 39 circa, ok? Quindi noi dovremo, il su qua, presentarci intorno al 1939 o al 1940 nel miglior modo possibile. Quindi faremo pochi combattimenti prima, dipendo ovviamente da focus a focus, ma comunque l'idea è di presentarci al meglio intorno al 1939, ok? Quindi, ovviamente ragazzi, andare a ricercare subito delle truppe potrebbe non essere l'opzione migliore, al momento noi dobbiamo sviluppare e migliorare la nostra economia. Quindi, il campo ingegneristico che ci aumenta la ricerca speed potrebbe essere interessante, ok? La ricerca dura 84 giorni e qua c'è il bonus che ci va a dare sia la ricerca come stats globali e sia dei bonus su questo tipo di arma, ok? E non l'abbiamo sistemata. Ovviamente, se noi andiamo a sviluppare una tecnologia che è molto più avanti rispetto all'anno in cui siamo, vedete, abbiamo un fortissimo malus, ok? Quindi dobbiamo cercare di stare al passo con l'anno in cui siamo. Quindi sviluppiamo, ok, il K dell'efficienza di produzione, che poi andiamo a capire che cos'è, ma comunque sempre per quanto riguarda un sviluppo industriale, ok? Andiamo a sviluppare anche la velocità di costruzione e la velocità di riparazione, che comunque è sempre buono. E come ultimo slot, ragazzi, come vedete, o prendiamo sempre sull'industria il fuel, che comunque è una meccanica interessante, ok? Ci fa fare le raffinerie di livello 3. Qua non possiamo prendere nulla. E allora, volendo, potremo andare a scegliere una delle altre schermate. Quindi potremo prenderci le armi del 1918, così che siamo pronti poi nel 1938 a fare le armi di livello 2. Potremo scegliere una compagnia di supporto, ok? Una che magari ci potrebbe interessare per i nostri piani. Potremo invece scegliere di costruire il carro del 36 e quindi iniziare poi tra 168 giorni a produrre un carro un pochino più forte rispetto a quello del 34. Oppure ci potremo buttare sull'artilleria, o sulla nave, o sulle aerei, ragazzi. Adesso la decisione spetta a noi. Io personalmente vorrei andare a produrre un carro del 36, ok? Quindi mi vado a ricercare l'L6 che mi permette di avere un carro tra 168 giorni leggermente più forte di quello che ho attualmente, ok? Poi ragazzi vediamo, man mano che giochiamo, come effettivamente capire cosa sia meglio o no. Per ora vi posso dire che premendo il pulsante maiuscolo e sinistro su una tecnologia, ok? Apriamo i dettagli e li mettiamo a confronto, ok? Vedete come i valori sono, adesso magari saranno un pochino criptici questi valori per voi. Piano piano li andremo ad affrontare. Vedete come sono più alti quelli del carro del 36, ok? Prendendo il carro del 34 vediamo come già qualche valore inizia a essere simile. Quindi un carro leggero è sicuramente migliore rispetto a un carro pesante del 36. Certo è che qualche valore è leggermente differente, come l'armatura, va bene? Poi capiamo meglio questo tipo di valori. Per adesso ragazzi ragioniamo su tirar su la nostra economia, ok? Andiamo avanti. Il secondo slot sono industrie civili libere. Attualmente noi abbiamo nel nostro recap 20 industrie civili, ok? Di cui 9 sono in uso per i consumer goods. Sostanzialmente è il fabbisogno del nostro popolo, come ci sta in Stellaris. Nel Stellaris utilizziamo una risorsa che si chiama consumer goods, qua invece utilizziamo le industrie civili. Quindi non ne possiamo utilizzare più di 9. Ok, certo è che se noi dobbiamo aumentare la nostra produzione, sicuramente dovremo costruire industrie civili sul nostro territorio. Cos'è questo numero che appare qua sotto? È la percentuale, ok, di sviluppo tecnologico che ci sta all'interno della nostra provincia. Ok, che cosa va a significare? Va a significare quanto velocemente andremo a produrre una determinata risorsa, oppure in quanto tempo noi, scusate, quante risorse andremo a ricevere, ok? Vedete? Dalle nostre zone, aumentando le infrastrutture, ovviamente aumentiamo anche la capacità di estrazione della risorsa, ok? Quindi, annullo tutto questo. Cosa ci conviene fare? Ci conviene scegliere una regione libera di slot, in questo caso la Toscana potrebbe fare al caso nostro, anche l'Emilia Romagna. Uno slot su 8, qua ne abbiamo 5 su 8, l'Atinium ne ha 5 su 6. Diciamo che l'Emilia Romagna sembrerebbe essere una buona provincia su cui puntare. Ok, quindi aumentiamo le nostre infrastrutture, ok? Le portiamo quindi a 10 e dopodiché andiamo a costruire le civili. Vedete che in realtà adesso io ne posso mettere 11. Quindi queste mi vanno semplicemente in coda, ok? L'idea delle infrastrutture è un'idea simpatica. Non sempre è uno start migliore, diciamo che iniziamo però a ragionare con questi termini. Quindi non conviene andare a costruire una civile, ok? Dove non abbiamo infrastrutture. Quindi ad esempio qua, ok? Non ci sono civili assegnate, però non conviene, normalmente conviene andare a costruire dove abbiamo delle infrastrutture in un buon livello. Potevamo anche fare uno start di questo tipo, ok? Quindi fare tre civili nella Toscana che è già un buon 80% e poi magari pensare alle infrastrutture, ok? Io però preferisco partire così. Secondo pulsante, Free Military Factory. Stesso discorso, ne abbiamo 19 e qui le usiamo tutte e 19. Ok, attualmente il gioco ci fa costruire fanteria, equipment, quindi fucili. Support equipment, un carro armato leggero, una motorizzata e un Close Air Support. Ora, io il carro armato leggero, ragazzi, lo butto. Perché sto andando a ricercare un carro armato avanzato, quindi che senso ha produrre un carro armato nettamente più scarso rispetto a quello che mi sto producendo? E quindi lo butto. Vedo che però mi manca l'artiglieria. Se clicco su questo pulsante, ok, vedo che non ho né artiglieria antiaerea né artiglieria da terra in produzione. I carri l'ho tolto e gli aerei vedo che ne ho molti da poter produrre. Ok, allora io inizio a costruire sicuramente una artiglieria da terra, mi tolgo un secondo, ok? E un'artiglieria antiaerea. Con che rapporto? Ma attualmente, ragazzi, il rapporto lo mettiamo ad occhio, ok? Il rapporto non va ad occhio, il rapporto va secondo una logica che vedremo probabilmente nel prossimo episodio, se riesco a rientrare nei tempi. Per adesso, ragazzi, tanto giocheremo davvero poco. Andiamo ad occhio, quindi sicuramente il Support Equipment è una cosa che potrebbe servire, ok? L'artiglieria potrebbe servire, l'antiaerea potrebbe servire, Closer Support va bene, ma io vorrei anche produrre un Fighter. Ok, andiamo a capire se il Fighter è una buona opzione di produzione, quindi andiamo sulla nostra ingegneria. Quello che ci dà lui è lui, ok? In realtà noi non abbiamo un Fighter del 36, che sarebbe la Saetta, abbiamo solo il CR 32. Non mi conviene quindi fare il CR 32, ragazzi, ok? Ovviamente il CR 42 è un'opzione voluta, adesso la togliamo e poi capiamo perché. Magari mi vado a fare un bombardiere navale, metto un'altra industria su Closer Support, perché mi piace come tipo di aereo, quindi lo portiamo qua sopra, gli diamo un pochino di priorità. E magari un altro punto sull'equipaggiamento e un altro punto, sì, un altro ancora sull'equipaggiamento. Per adesso possiamo essere settati così. In futuro potremo tranquillamente andare a, vedete, cambiare le nostre industrie. Abbiamo fatto quindi tutto ciò che c'era da fare per la Terra, andiamo a parlare delle navi. Attualmente l'interfaccia navale è disposta in questo modo. Io per questa puntata non la vado a toccare. La lascio così. Nel prossimo episodio, ragazzi, andremo anche a toccare questa schermata e capiremo come impostare bene una produzione navale. Attualmente, ragazzi, noi abbiamo detto che vogliamo sviluppare la nostra industria, ok? Allo stesso modo non vuol dire che non dobbiamo produrre unità, scusate, non dobbiamo produrre equipaggiamenti e navi, ok? Quindi però per adesso lasciamo così. Non abbiamo settato un focus nazionale, ok? Dezoomiamo un attimino, vediamo cosa abbiamo. Possiamo andare o su un ramo prettamente industriale, oppure possiamo andare su dei rami tecnologici. Ma noi abbiamo detto che vogliamo sviluppare un ramo industriale, ok? Anche in realtà avere un pochino di stabilità e supporto non è male. Certo è che non abbiamo ancora conquistato l'Etiopia, vedete? Non la possiamo iniziare perché non abbiamo l'Etiopia conquistata. E quindi noi andiamo magari a fare Ethiopian World Logistics per poi passare al ramo industriale, ok? Quindi questo focus ci mette 70 giorni e quindi andiamo. Ovviamente selezionando un focus, ragazzi, andiamo a pagare 1 di daily power cost al giorno. Ok? Quindi noi guadagniamo 0,97 anziché 1,97. Ok, abbiamo degli aerei da assegnare. Quindi io premo F3, vedo dove ho i miei aerei, li ho attualmente tutti in Italia. Attenzione ragazzi che io però sto in guerra con la Libia, ok? Quindi magari mettere qualche aereo qui sulla Libia potrebbe essere interessante. Attualmente ho 600 di capacità, quindi qualche aereo me lo posso portare. Ok? Quindi seleziono, faccio il cambio di aeroporto e piano piano questi aerei mi andranno a fillare le mie flotte sulla Libia. Ok? E anche qui abbiamo fatto. Quindi questa icona per adesso me la lascio. Non abbiamo delle divisioni assegnate, che vuol dire che queste divisioni attualmente sono senza ordine. Iniziamo quindi a dargli un ordine, ok? Creiamo quindi, selezioniamo le nostre truppe, diamo la possibilità di entrare a far parte di un'armata e diamo l'ordine di, ok, front line. In questo modo loro si schiereranno su questa linea del fronte in un modo omogeneo. Quindi lo facciamo anche per loro. Ok? Ho delle truppe che sono libere. Ok? Questa mi si metterà a posto. Qui ho delle truppe libere. Potrei anche pensare di fare un'altra mossa. Quindi questo lo chiamiamo fronte italiano. Fronte italiano. Ok? Loro armata 1 e loro armata 2. Lì cambiamo magari anche il simbolino per riconoscere. E ok. Abbiamo detto che siamo in guerra con la Libia. Scusate, con l'Etiopia. L'Etiopia quindi abbiamo attualmente due fronti. Un fronte sud e un fronte nord. Quindi, creiamo una nuova armata, nuovo teatro perché ci spostiamo sul fronte dell'Etiopia. Selezioniamo una linea frontale. Ok? E lo chiamiamo qua fronte Etiopia. Ok. Anche qui, nuova armata, nuovo fronte. Ok? Abbiamo detto nel precedente episodio che possiamo dare a loro un film marshal e quindi li mettiamo dentro a un'organizzazione un pochino più grande. Qua abbiamo delle truppe libere. Possiamo tranquillamente selezionarle e premendo il tasto destro su un'armata andiamo ad integrare quelle divisioni dentro la specifica armata. Ok? E io lo faccio senza problemi. Quindi queste truppe adesso si sposteranno automaticamente nel fronte selezionato. Ok? Ogni volta che fate un upgrade di questo tipo, ragazzi, io vi consiglio di ricliccare su Division Assignment Mode Ok? Quindi cliccate sull'armata e poi ricliccate sulla linea del fronte. Vedete? Ok? Oppure fate così, cancellate l'ordine anche se ve lo sconsiglio per un motivo che vedremo più avanti e fate questo. Ok? Automaticamente le nostre truppe si andranno a disporre. Iniziamo quindi ad assegnare dei generali. Qui li mettiamo Giovanni Messe che attualmente è il più alto che abbiamo. Poi capiamo anche con quale criterio assegnare un generale. Ok? Ugo Cavallere come Phil Marshall. Ci prendiamo Rodolfo. Ok? Impostiamo poi delle tattiche di attacco perché attualmente queste truppe stanno semplicemente sulla linea del fronte. Quindi selezioniamo la nostra armata numero 3. selezioniamo una linea offensiva. La possiamo disegnare come vogliamo noi. Ok? Possiamo disegnarla così. Possiamo disegnarla così. Ok? Che cosa cambia? Ovviamente cambia il criterio con cui le nostre unità attaccheranno su questa nuova linea. Quindi loro partono da questa linea per poi arrivare a quest'altra. Ok? Facciamo lo stesso anche per quest'altro fronte. Quindi chiudiamo, diciamo, a panino i nostri avversari. Vedete che se io inizio a tracciare una linea di confine più ampia di quello che effettivamente è il colore, va a cambiare. Con quale criterio? Ovviamente io non posso tenere una linea del fronte con poche unità. Ho bisogno di un numero alto di unità. In questo caso ne ho 8 e quindi andare a fare una linea del fronte molto ampia non mi conviene. Quindi mi conviene fare una cosa più piccola di questo tipo. Ok? Quindi ho attualmente 4 divisioni che riassegnerò, vedete, ne ho 4. Io riassegno mettendone 8 perché l'armata è da 8 e lui me ne ha impostate solo 4 che spingono verso questo fronte e altre 14 che spingono verso quest'altro. Ok, quindi altra divisione che non è assegnata l'andiamo a implementare nel fronte italico e le divisioni le ho tutte assegnate. Siamo in guerra, quindi il recap della nostra guerra ce lo teniamo. Non abbiamo divisione in addestramento. Per adesso non voglio addestrare nessuna divisione, ne ho abbastanza. Non ci sono template, quindi qua mi dice che sto producendo un equipaggiamento che non è all'interno di nessuna mia truppa in questo caso sono, mi sembra, queste due non mi interessa e ho delle risorse insufficienti. Attualmente sto a meno 6 di rubber e meno 6 di chromium quindi mi manca la gomma e il chromium. Fino a meno 8, ragazzi, ce lo possiamo permettere. Cosa vuol dire che ci mancano le risorse? Guardate, andiamo nella schermata di produzione. Ok? Era qua. Ci mancano delle risorse e quindi noi produciamo al meno 10%. Va bene? Per adesso ce lo possiamo permettere. Non è un problema. Ok? Quindi non mi interessa. Poi capiamo. Anzi, no, invece no. Facciamo così, ragazzi. Visto che è un tutorial nel caso volessimo comprare il rubber che è una risorsa che ci interessa la compriamo a chi vogliamo dare la nostra civile la diamo all'India. Ok? Ah, no, loro sono le colonie olandesi. Ok, perfetto. Abbiamo comprato. Quindi al giorno successivo noi avremo 8 e non avremo più problemi di risorse. Ok, ragazzi. Quindi adesso avvio il tempo. Mi levo un secondo la modiata giorno-notte che non la sopporto. Vedete come le nostre truppe attualmente qui sul fronte dell'Etiopia si stanno ridisponendo. Ok? In base all'ordine che abbiamo impostato. Ovviamente finché noi non diremo che dovranno attaccare loro non attaccheranno nessuno. Aspetto un attimino speedo un pochino il tempo aspetto che mi arrivano i miei aerei. Ok, mettiamo in pausa e spediamo. Ok, adesso degli aerei. Cosa faccio? Li raggruppo, quindi clicco qui e premo G e mi si raggruppano. Ok? Poi capiamo come gestire questi numeri. Per adesso andiamo così come il gioco ci propone. Ok? Ovviamente hanno una logica non vuol dire che noi dovremo giocare con 48 cioè un criterio con cui noi gestiamo gli aerei. Ora, cosa può fare quest'aereo? Quest'aereo è un fighter quindi qua sopra avremo il menu di combattimento del fighter. Lui potrà o garantirci supremazia aerea oppure intercettare aerei nemici che faranno delle azioni. Io garantisco supremazia aerea e seleziono questa regione. Ok? Quindi l'est Africa. Ho poi un bombardiere tattico mi può bombardare le truppe può bombardare le infrastrutture o le navi oppure i porti. Io vado a bombardare le truppe e dispongo i miei aerei. E poi ho ancora un air support che può bombardare aerei o navi. Quindi il tactical bomber può bombardare anche le strutture lui invece non può bombardare le strutture e le industrie. Quindi ancora close air support. Ok? Vedete come aumentano questi valori? Questo praticamente è la nostra potenza la nostra supremazia aerea in questi termini. Quindi i nostri aerei adesso partiranno in volo. Io nel mentre farò partire l'ordine di attacco. Ok? Ovviamente è rischioso perché le divisioni non hanno avuto ancora modo di prepararsi. Vedete la divisione è ancora in preparazione alcune divisioni non sono in posizione quindi ho un malus ma non fa niente comunque sono in netto vantaggio ho inferiorità nemica all'80% quindi io faccio partire l'ordine. Di qua ragazzi no. Vedete? perché in realtà è vero che sono sempre in vantaggio ma numericamente parlando siamo 5 divisioni contro 4 e quindi preferisco difendermi. Ok? Cosa sono queste iconcine qua sopra? Sono sostanzialmente poi li vedremo con calma le nostre il 3k delle nostre unità. Ok? Qui stiamo vincendo qua anche e qua anche qui ci hanno conquistato un territorio poi capiremo come gestire bene i combattimenti. per adesso per questo episodio ragazzi tanto la guerra in Etiopia ci durerà ancora un pochino teniamolo per buono ok? Attualmente vedete anche che il fuel sta scendendo ovviamente perché ragazzi? perché ho messo in moto 6600 circa 524 aerei ok? Quindi mi dice che ho 67 giorni di fuel rimasti perché sto consumando guardate il ramo dell'aria sto consumando 879 per giorno su una produzione giornaliera di 48 ok? Quindi sto nettamente sotto alla mia produzione giornaliera ma va bene così dobbiamo vincere la guerra ragazzi e quindi ok vedete come le truppe pian piano stanno arrivando da dove le avevo come le ho cambiato le varie le varie assegnazioni va bene? Quindi nel mentre le nostre truppe avanzano dovremo dare una sistematina alle nostre navi adesso non lo faccio perché ovviamente ogni volta che una nave si muove mi va a consumare fuel io attualmente ho bisogno di fuel per poter supportare per tenere scusate operativi miei aerei ok? Quindi mi conviene in questo modo non utilizzare fuel per muovere le navi ma più o meno utilizzarlo al massimo per i miei aerei ok? Adesso ovviamente le nostre truppe stanno andando automaticamente noi potremo anche decidere di fare una mossa di questo tipo e quindi attaccare in massa ma questo ragazzi lo vedremo nel prossimo episodio nel mentre vorrei farvi notare come l'armi experience sta pian piano salendo insieme all'air experience ok? Se il video vi è piaciuto ragazzi iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui futuri contenuti che pubblicherò per qualsiasi dubbio perplessità o semplice curiosità ragazzi commentate e cercherò di rispondermi come posso ciao a tutti al prossimo video